Il Castelnuovo come detto ha questo derby con il Pontamoriano, Pontamoriano ultimo in classifica. Da Prato riesce a cavarsi in un primo momento, però poi Biase che torna sul pallone, tocca dentro per Gatto che va al tiro. Affonda Gori sulla destra, difficile controllo, riesce a pallone ancora in campo, Gori sul secondo palo, arriva Inglese e c'è il gol. Arriva Inglese e c'è il vantaggio del Castelnuovo. Dobbiamo toccarsi la caviglia sinistra, forse un problema fisico dunque questa istituzione decisa da Edoardo Micchi. Intanto Bolognesi passa il pallone a Palmero che è in trenare di rigore. Palmero, Palmero in mezzo a Pennardi. Lancio lungo di Pieroni, può diventare un assist per Biase, esce Connello con i piedi, la porta è vuota e c'è il pareggio del Pontamoriano, no la traversa signori, la traversa, clamoroso. C'è uno sfogo sul fondo, riesce a pallone bene per Orzetti, che la tocca in area e c'è il fallo di mano di Vichi. Sfiuate di Sichi, Gori, sinistra parata di Bolognesi sulla respinta Gori e la palla resta lì. Ecco il tripice fischio, quindi Castelnuovo che resta a quattro giornate della fine, a tre punti dal primo posto.